Radio Radicale, siamo con Pino Pisicchio, ex parlamentare, docente universitario, viva Bari, è stato anche Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per parlare con lui di quello che sta succedendo proprio a Bari. Allora, io le volevo chiedere, onorevole, se lei è preoccupato da quello che abbiamo visto, ieri abbiamo visto tutti De Caro, dopo la polemica con il Ministro dell'Interno, le volevo chiedere a suo avviso che cosa sta succedendo dopo tutti questi arresti e il commissariamento della municipalizzata. Allora il Comune di Bari si avvia al commissariamento? Guardi, gli indizi sarebbero questi se ha senso la indizione di un percorso così impattante con la nostra realtà municipale, soprattutto avendo a riferimento una data, quella di giugno, momento nel quale si sarebbe dovuto ricostituire la rappresentanza del Consiglio Comunale di Marese. Siamo alla vigilia del voto. Siamo davvero alla vigilia del voto. Questo avrebbe, se avvenisse il commissariamento, non ci sarebbe più questo voto, avrebbe spostato più avanti? Questo è un elemento, diciamo, è una questione controversa per la verità, perché credo che la commissione caricata dal Ministro di svolgere le proprie indagini abbia tempo 120 giorni. Quindi 120 giorni prima di emanare il suo verdetto significa scavallare il voto di giugno. Però bisognerà vedere se la situazione, così come si sta manifestando, appare carica grondante di elementi di difficoltà, se da parte del Ministero si intenderà mantenere un registro volto a consentire lo svolgimento delle elezioni oppure no. Quindi, insomma, è una situazione abbastanza controversa e poco chiara in questo momento. Quello che sappiamo è che c'è stato un boato, c'è stato un impatto veramente molto difficile da considerare come evento ordinario, perché è evidente che in una città di 320 mila abitanti, che viene considerata anche, almeno nell'esperienza ultima di De Caro, ben governata, senza momenti debordanti o momenti di criticità tali da poter consentire di immaginare una situazione di questo genere. Insomma, tutto questo è evidente che ha procurato uno shock nel tessuto urbano. Uno shock che evidentemente poi finisce con avere anche effetti ed esiti sul piano politico. Stiamo parlando quindi della massima assise cittadina e stiamo parlando anche di un momento elettorale che vede schieramenti agguerriti, contrapposti, anche con qualche difficoltà di individuazione dei candidati. Certo, non sapevamo che c'era questo problema. È una narrazione che va, diciamo, anche in qualche modo messa nel conto e che riguarda sia il centro-sinistra sia il centro-destra. Quindi è una situazione complessa, è un mosaico in cui l'impatto crea anche difficoltà che non sono facilmente riassorbibili. Lei che pensa? Si tratta di giustizia orologeria oppure effettivamente dopo la retata che ha portato a 130 arresti il commissariamento della municipalizzata dei trasporti? Non sono cose da poco, agli occhi di un esterno. Poi andare a vedere dentro... Io posso dire questo. Diciamo le dimensioni di questo fatto che è un fatto oggettivo. Poi la magistratura si incaricherà di dirci se effettivamente esistevano le condizioni e le necessità per un intervento di questa portata oppure no, sono tali da lasciare immaginare una qualche difficoltà a sviluppare un percorso ordinario di campagna elettorale e tutto quello che ne fa seguito. Sarebbe necessario immaginare anche uno spazio di decantazione perché questo possa rappresentare una, diciamo, un'occasione per rimettere in gioco posizioni non conflittuali e non così esacerbate e anche sperando di poter guadagnare al voto una parte della cittadinanza che sicuramente in questo momento sarebbe sospinta verso il non voto. Tutto ciò prevesso, c'è qualche considerazione politica da fare o se vuole qualche considerazione di carattere antropologico politico. Legata ad un fatto, lei converrà con me che più la FOM ha partito, diciamo, più l'organizzazione politica che ha garantito nel nostro Paese l'esperienza democratica dall'avvento della Costituzione, quindi dall'avvento della Repubblica fino a un certo punto, più questa forma si va a liquefare, si sfarina e più i partiti diventano dei brand personali o nel caso del locale, molto spesso delle liste civiche che hanno dietro al civismo di facciata, hanno anche il brand personale, più ci si imbatte in situazioni in cui gruppi di ceto politico, pezzi di ceto politico sono motivati non dall'idea di servire il popolo, ma dall'idea di servire se stessi, quindi li vedi spostarsi da un'area all'altra. Tutto questo dovrebbe rendere più prudenti tutti quanti, cioè se ne va a vedere le biografie di coloro i quali hanno avuto problemi giudiziari, ripeto, stiamo parlando di meccanismi diciamo con un itinerario ancora lungo, noi siamo sempre garantisti, però va a vedere che sono persone che hanno fatto più di uno spostamento da destra a sinistra, da sinistra a destra a seconda. Vanno forse dove gli conviene di più. Esatto, l'effetto Ben Wagon ha avuto un suo significato soprattutto in queste realtà. Allora, forse una cosa da dire, non da tradurre in legge, ma da dire alla politica oggi, ecco non rendetevi protagonisti di accoglimenti a prescindere, no? Per rafforzare. Non accettate chiunque. Tanto poi la legge elettorale è abbastanza chiara, no? Tu hai una maggioranza e te la godi fino alla fine. E questo è fondamentalmente l'unico principio da accettare. Cioè hai fatto la maggioranza, te la porti avanti fino alla fine, non crescerla con posizioni spurie. Ho capito. E se lo fai? E se lo fai poi alla fine ti capitano pure delle cose strane. Allora, senta, ha trovato strana l'iniziativa di Piantedosi, ha visto qualcosa di strano in questo periodo a Bari, a me hanno raccontato un episodio, è venuto poi tra l'altro c'è anche un'intervista rilasciata a Radio Radicale, l'ex onorevole Lattanzio, venne da me, un giorno mi raccontò che un boss della criminalità locale aveva organizzato un funerale e aveva bloccato tutto il centro e nessuno aveva avuto quasi nulla da ridire. Allora, se la criminalità organizzata arriva a fare tanto a Bari, significherà qualcosa? L'intervista è pubblicata sul sito di Radio Radicale, lei ne ha raccontato tutto. Ma, mi perdoni, l'onorevole Lattanzio che io ricordi era un protagonista cosiddetta prima repubblica remota. No, 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 non Lattanzio, l'ex ministro della democrazia cristiana del caso Kapler. Lattanzio è un deputato di Bari che era deputato nella scorsa legislatura e che stava nell'antimafia. Ah, bene. Ok, che adesso sta nel Partito Democratico, ex del Movimento 5 Stelle. Non Lattanzio... È la mia mente che ha fatto... Non era quello degli anni 70, ex ministro... Non ho avuto il privilegio di conoscere questa persona, quindi non so dire nulla. Non ho neanche la cognizione che viene proposta attraverso questa intervista di una città che sia attraversata da orde di organizzazioni criminali. Bari ha una sua caratterizzazione. Bari ha, da un punto di vista criminologico, un'antica storia di contrabbandieri. Queste Bari non ha mai avuto né Camorra né mafia, queste cose non appartengono. E poi, chiaramente, ci sono dei boss di alcuni quartieri periferici, ma che io sappia, sono assicurate la giustizia da un bel pezzo. Quindi, certo, coinvolgimenti di questo tipo, diciamo... Bari non c'è la cosiddetta quarta mafia. Direi proprio di no. Ok. Direi proprio di no. E anche, ad ascoltare le relazioni che fanno i tribunali all'inizio dell'anno sullo Stato della giustizia, certamente talvolta sono sottolineature allarmanti, ma non tali da lasciare immaginare una egemonia della criminalità organizzata sulla politica. Quindi lei si tiene una grande, un grosso margine di dubbio su tutto quello che sta succedendo, conoscendo De Caro? De Caro, che io sappia, è una persona per bene, che ha sempre camminato, diciamo, lungo un crinale di totale trasparenza. Se io dovessi fare un'obiezione a De Caro è quella che ho detto prima, cioè fai attenzione chi ti metti dentro, chi ti metti in pancia, ma a parte questo, per il resto nulla da dire, anzi, devo dire che Bari ha avuto un momento anche piuttosto sereno attraverso la sua amministrazione. Poi voglio vedere bene le carte, so che ci sono in giro delle importanti ordinanze, anche molto argomentate. Leggeremo e vedremo che cosa dicono. Va bene. Noi aspettiamo gli sviluppi della situazione. Io la ringrazio per le riflessioni che ha fatto su quello che sta succedendo a Bari, per la sua attestazione anche di stima nei confronti dell'attuale sindaco De Caro. Grazie a Pino Pisicchio, con il quale abbiamo parlato di questa vicenda. Grazie.